Siamo qui anche stasera, è un'occasione magnifica, sette imprenditori premiati e premio fedeltà. È un'occasione bellissima in un contesto bellissimo su Arezzo, ma è anche riconoscimento per tanti che hanno lavorato una vita nel rispetto delle regole, creando benessere, creando occupazione, è il vedersi riconoscere un qualcosa che molto spesso vale più di qualsiasi ritorno economico, è il riconoscimento di una valenza che diventa sociale e che corona una vita di lavoro. Un bel applauso per questa dritta anche che praticamente da est a ovest abbraccia tutto il globo. Complimenti al signor Orlando Marraghini. È un piacere stasera essere qui in questa bellissima location a premiare le nostre sette aziende. Per noi è molto importante perché è un riconoscimento del lavoro che le nostre aziende fanno da tantissimi anni, ognuno per la loro peculiarità. È un momento di festa, di gioia da condividere con la famiglia e di apprezzamento del lavoro che fanno per il nostro territorio. Pasticceria a gelè di Lombardi Lucini.